Pesante il clima nel dietro le quinte del reality dopo lo scontro tra Signorini e Sonia Bruganelli, che ha lasciato lo studio per quasi un'ora. Segnale di un possibile addio anticipato, o una semplice dinamica fortunata? Il grande fratello Vip continua ad alimentarsi più di quello che accade in studio che di quel che accade all'interno della casa. Oltre all'ennesimo capitolo della saga Belli Soleil, che hanno avuto un altro confronto al quale si è aggiunta anche la madre di Sorge, il momento clou della puntata di lunedì 20 dicembre è stato indiscutibilmente lo screzio tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli che ha portato quest'ultima ad abbandonare lo studio per diversi minuti. Quasi un'ora, per la precisione, durante la quale pare che il clima dietro le quinte del reality sia stato rovente. Come noto a chi avrà visto la puntata, la lite è avvenuta mentre in studio si parlava proprio della vicenda tra Alex Belli e Soleil Sorge. Signorini ha chiesto a Sonia Bruganelli di dire la sua, ma l'intervento dell'opinionista è stato interrotto poco dopo proprio da Belli, contestato da Bruganelli. A quel punto Alfonso Signorini ha zittito entrambi e Bruganelli non ha potuto fare a meno di protestare, contestando al conduttore di averle tolto la parola, te l'ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare, ha detto Signorini. Parole che hanno fatto andare su tutte le furie l'opinionista. Stando alle ricostruzioni che emergono, Bruganelli avrebbe mandato a quel paese Signorini, per poi abbandonare lo studio e lasciare vuota la sua sedia. La trasmissione è andata avanti senza riferimenti all'accaduto, mentre nel dietro le quinte si faceva di tutto per convincere Sonia Bruganelli a rientrare. L'opinionista non ha affatto tollerato il trattamento a lei riservato dal conduttore, vista la palese mancanza di rispetto nei suoi confronti e una certa incapacità di Signorini nella gestione del momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.